Anita Pirovano, esponente di Sellas, oggi avete presentato l'atto fondativo di questo nuovo movimento Sinistra per Milano. Qual è la carta dei valori principali? In realtà oggi presentiamo la Due Giorni che darà vita ufficialmente all'associazione, al laboratorio politico Sinistra per Milano che nasce nella scorsa campagna elettorale ma con la volontà esplicita e l'impegno a non essere un cartello elettorale e allora sei mesi dopo eccoci qui, l'avevamo detto per una volta in politica, lo facciamo per davvero, ci impegniamo a proseguire per cinque anni nell'impegno dentro e fuori l'istituzione per la città e nel rimettere al centro dell'istituzione ma soprattutto della politica e della società quelli che sono i principi classici di cui però c'è ancora tanto bisogno e si sente tanto la mancanza della sinistra ma anche abbiamo la volontà di innovare, quindi di introdurre per esempio la centralità della questione ecologica e dell'ambiente, della non consumare più il nostro suolo, della porsi l'obiettivo di stili di vita e di consumo che siano per davvero sostenibili, poi ci sono i valori dell'antifascismo, c'è la centralità della cultura e c'è poi la volontà di non mettere al centro quelle che sono un numero limitato di priorità ma di mettere al centro le persone e le persone sono tante e diverse, quindi ci sono gli adulti, ci sono i bambini, ci sono le donne, ci sono gli uomini ci sono gli eterosessuali, ci sono gli omosessuali e la politica che ci piace, la sinistra per Milano che vogliamo costruire è capace di rispondere a tutti quanti i bisogni, a tutti quanti i desideri delle persone Questi punti nel programma di sala non sono sufficientemente toccati secondo lei? No, assolutamente c'erano e ci sono anche nell'amministrazione, cioè c'erano nel programma elettorale e sono in questo momento al governo della città, però noi siamo una delle componenti e vogliamo dare il nostro ruolo e farlo in maniera proattiva da protagonisti, quindi in questi mesi siamo stati parte attiva di tutte le proposte che sono state fatte e delle azioni amministrative che sono state realizzate e vogliamo continuare a contribuire e pensiamo che in questo momento strutturare Sinistra per Milano anche fuori dall'istituzione ci permetta di essere più efficace e soprattutto di coinvolgere di più attraverso meccanismi di partecipazione virtuosa i cittadini